La coesione è alla base della nostra Carta Costituzionale, alla base dei valori che la Carta Costituzionale esprime e quindi è giusto oggi ricordarla nella ricorrenza della Festa della Repubblica. È un bene immateriale che credo debba accompagnare l'azione delle istituzioni, dei cittadini, della società civile in tutta la vita collettiva e anche nei momenti di difficoltà e anche nei momenti di emergenza come hanno vissuto le popolazioni dell'Emilia Romagna in questo periodo. Il sistema della protezione civile in questo caso credo che debba avere e ha al suo interno forte il senso della coesione, della collaborazione e del coordinamento. Io credo che le onorificenze, sia quelle dell'Ordine al Medico della Repubblica anche le medaglie d'onore debbano costituire un emblema visibile a tutta la comunità dei valori che sono racchiusi in queste onorificenze, quindi meriti per aver contribuito alla crescita, al progresso sia sociale che culturale della collettività e il sacrificio di chi ha vissuto la tragedia, l'esperienza tragica della deportazione e del lavoro coatto. Presidente, onore ai caduti! 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 E la prima volta! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti